Da una parte una task force con Confindustria nazionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e garantire i propri dipendenti, ma dall'altra Confindustria Pescara Chieti ha denunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa anche le conseguenze derivanti a livello economico per le nostre aziende che ha portato per esempio nel settore turistico la cancellazione di meeting e pernottamenti. Le difficoltà sono quelle che già avete potuto vedere perché sono quelle di carattere nazionale qui non abbiamo situazioni diciamo diverse, se non altro non abbiamo ancora zone rosse quindi questo c'è di conforto ma questo non deve assolutamente tranquillizzarci, anzi questo tempo che abbiamo a disposizione come avete sentito poco fa nella conferenza stampa deve servire a mettere in atto una serie di azioni di monitoraggio per capire anche come rispondere nel migliore dei modi e l'ho detto e lo ripeto perché è una cosa alla quale tengo in maniera particolare, per noi combattere il virus è la prima azione economica perché vogliamo sottolineare l'importanza dell'aspetto sanitario perché prima di tutto c'è l'aspetto sanitario. dobbiamo però a mio avviso reagire in un'ottica di pensiero sferico, di affrontare il tema a 360 gradi perché più temi concorrono a questa crisi quindi dobbiamo avere la capacità di vederla in maniera globale. La task force alla quale si faceva prima riferimento ed evidentemente la task force a livello nazionale fatta da Confindustria e in contatto con la Farnesina sono azioni che vanno proprio nel senso di capire come limitare i danni e come lo stiamo portando avanti, cosa stiamo facendo per limitare questi danni, stiamo cercando di capire quali sono gli impatti economici quindi anche il sostegno economico da dare alle aziende anche in termini di fiscalità tutti gli aiuti possibili, abbiamo sentito prima anche il direttore Giuseffatte sul tema della cassa integrazione laddove c'è necessità di andare incontro alle imprese che stanno in sofferenza proprio dovuto al fatto che questa continuità produttiva non può essere mantenuta in alcune località e anche capire meglio come questo impatto le zone rosse e quindi mi riferisco anche al mercato interno, non ci dimentichiamo che in quella zona dell'Italia c'è una parte molto importante produttiva che riguarda un po' tutta l'Italia e quindi anche un effetto indiretto che comunque anche se non immediatamente visibile ma c'è.